Questo non va Ma è più bello C'è anche l'unicorno Va bene Questo è più bello Dai insieme Va bene Rosa Tavano i capelli Anche te il rossetto Rosa Ok L'abbiamo messo? E proviamo questo? No questo qua è più bello Si è vero Ok adesso facciamo gli occhi Gli occhi Gli occhi li facciamo come te Anzi così guarda Va bene Anzi no come i tuoi guarda Ora Ora mi sono Oppure questi Cosa? Beh dai però sono più carini questi Ok capelli Un attimo lo scelgo io adesso Ok Orecchini Orecchini Guarda la stella Guarda Guarda questi Guarda questi Giudo ma chi è? Ma tu aspettavi qualcuno? No Non può essere mamma Perché lei ha le chiavi Giudo ma chi è che busso? Ma guarda Ha detto mamma Che non si apre A con i giuti Vabbè Mamma mia arriviamo Mamma mia Ludovica Andiamo a spiare del bacchiello Anche voglio vedere Anche voglio vedere Va bene Ma Ludovica Shhh Non c'è niente Non c'è niente Guarda Non c'è niente Mamma ma chi è questa vecchia? Vecchia Vecchia Aspettavi qualche vecchietta? No Però Ludovica Ti ricordi che l'anno scorso Ma guarda Non possiamo aprire Ti ricordi mamma che cosa ha detto? Mai aprire i conosciuti Sì Sì Non dobbiamo aprire gli conosciuti Ma siamo sicuri che questa sia una sconosciuta? Ora posso Non bussare Miano Perché non mi aprono questi qui? Allora Ludovica Sono la nonna Fa freddo qui fuori Aprite Ma io questa voce la conosco Oh mio Dio Ludovica tu sei chi è? No Aurora Ludovica Sono la nonna È la nonna Cacca Cosa facciamo? Cosa facciamo? Prima è il nonno Poi è la nonna Poi non so Ludo apriamo Sì Un attimo Allora Possiamo aprire le nonne Perché le nonne sono brave Ma Questa no Le nonne sono brave Sì Ludo ma Dai Ludo Non possiamo lasciarla fuori Sì Prima è il nonno Poi la nonna Che cosa vorrà da noi? Che cosa vuole da noi? Loro Tanno una casa Bellissima Forse ci siamo sbagliate Ricontrolliamo Sì Ma dai Non so È la nonna È la nonna Ok Noi ci siamo sbagliate Sul fatto che è la nonna Ludo l'apriamo? Sì Oh mio Dio Aurora Ludovica Ciao 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 nipotine mie Ciao 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 Ludovico Ciao Ciao Nonna Ma Non Aspetta Nonna Ma Nonna Parliamo Aspetta Nonna Come ti chiami? Come va? Ciao Nonna Vuoi un po' di acqua? Ludovica Sono qua Nonna Lei è Ludovica Io sono disperata Vuoi un po' di acqua? Sì Ma Vieni Vieni Ludovica Nonna Nonna Io sono Aurora No Lulù L'acqua è nonna Sì Allora nonna Che è successo nonna? Vieni qua Vieni Ok Perché mi avete Aperto Party Mi avete fatto stare Ero fuori Ehi Perché Nonna È così Se va Sì 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 Tutto ok Tutto ok Ragazzi Ora Noi Buttiamo l'acqua Adesso Oh Così Aurora Io sono disperata Aurora Nonna Sono io Aurora Aurora Avete visto il nonno? No Ah no Io Io sono disperata Perché il nonno Mi ha lasciato Che bella panza Che c'hai Non c'hai di più Io l'ho fatto venire qui Ma poi Non è tornato più a casa Aurora Hai visto il nonno Tu E lei ha guardato la sestra Nonna Hai visto il nonno Lei 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 Guarda lei Hai visto il nonno Tu No Io Io l'ho lasciato L'ultima volta La mia bocca Io l'ho lasciato L'ultima volta Che era venuto qui A Verona Ma Non è più tornato A Napoli Non è che si è innamorato Di qualche Veronese Aurora Di una più giovane Io sono venuta qui Per cercarlo Ma Non c'è neanche qui Ho finito Ma Aurora Io sono disperata Nonna Io sono Aurora Aurora Il nonno Il nonno è andato via Ludovica Mi ha lasciato solo Ludovica Io non la trovo più il nonno Ma 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 Sei cercato Io no Avrò trovato Una più giovane Io sono disperata Perché non è tornato più a casa Bevi 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 Apri la Cola Bevi 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 Che ti fa bene Bere Nonno Sono disperata Perché il nonno non è tornato più a casa io l'ultima volta l'ho lasciato venire qui ma poi non è più tornato a casa di tagliare le scarpe ho bisogno di far sgranchire un po' i piedi perché ho piaggiato il treno allora forza forza ma non ti metti le scarpe strette che non ti vanno aiuto 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 voi siete delle delinquenti siete delle delinquenti dai no 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 dai su alziamoci nonno dai adesso ti mettiamo una bella coperta calda aiuto stai copriti bene mamma copriti piano 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 aspetta prendiamo una coperta va bene appoggia appoggi madonna madonna mamma copriti mamma copriti non è un corregio questa mamma copriti mamma copriti domani oh addolmena allow me to andormento quero guarda 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 anche il cuscino mettiti il cuscino vai buonanotte chiamate il nonno si si chiamiamo il nonno domandotemi se mi ama si si ma lui ti ama nonna ti ama guarda chiami il nonno sta dormendo chiamo il nonno si ok ludo non è che il nonno è stato rapito quella volta in cui lui era solo sul letto su e poi il giorno dopo non l'abbiamo più trovato forse è stato rapito da mister bu ora ludo si collegano le cose allora ludo dobbiamo entrare nella porta e andarla a salvare però ma secondo me lulu forse se ne sarà andato vabbè noi proviamo a chiamarlo lo stesso e se mi risponde mister bu per qualcun altro ludo chiamo ma non risponde utente occupato ludo rifiutano sempre la chiamata ludo questa è la conferma che è stato letteralmente rapito e ma come facciamo con la nonna e il nonno lo dobbiamo andare a salvare vabbè ludo andiamo su entriamo nella porta magica e andiamo a vedere dove è andato il nonno dai guarda prima che si vede la nonna si appunto dai 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 oddio ludo questa russa oddio ludo oddio oddio perguntano oddio oddio